Arrivano gli aiuti nella Guta Est alle porte di Damasco, in Siria, ma il convoglio umanitario, dopo poche ore, ha dovuto interrompere la sua missione a causa di nuovi bombardamenti nella città di Duma. A riferirlo, le stesse Nazioni Unite. Sta accadendo proprio ora. Il convoglio si ritira da Duma, quasi nove ore dopo. Noi abbiamo consegnato quanti più aiuti possibile nel pieno dei bombardamenti, ha scritto su Twitter Sajad Malik, il rappresentante dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati in Siria. Aggiungendo che i civili sono ostaggio di una situazione tragica. Più di 40 tir con cibo e medicinali, destinati a 27.500 persone, erano riusciti a raggiungere le enclave ribelle siriana, dopo il via libera del regime. Ma la missione, riferita a una responsabile locale di Duma, non ha potuto completare il suo lavoro e non sono stati tutti scaricati. Combattimenti e bombardamenti sono proseguiti per tutto il tempo.